Dica 33 il medico risponde anche questa settimana è tornato nei nostri studi il dottor Paolo Cascavilla medico di medicina generale responsabile dell'area tabacologia della Simefac. Buongiorno dottor Cascavilla. Buongiorno a voi. Allora beh anche in questo nuovo ciclo di appuntamenti non potevamo non parlare di una piaga il fumo e nonostante la consapevolezza dottor Cascavilla che dei danni che il fumo provoca e anche aggiungo le immagini shock riportate sui pacchetti di sigarette si continua a fumare ma soprattutto sono anche giovanissimi che iniziano a fumare ma non solo loro. È semplice perché si inizia e si continua a fumare perché la nicotina è la sostanza d'abuso perfetta riesce a farci remare contro tutti i nostri interessi più nobili quelli legati alla salute al benessere. Il fumo ruba anni di vita ci ruba salute e come lo fa? Attraverso un meccanismo strategico. Entra nel nostro cervello attiva la parte antica del nostro cervello quella che regola da millenni i nostri comportamenti evolutivi e il gioco è fatto. Si vive poi per la sostanza in funzione di quella sostanza non se ne può più fare a meno. Ecco perché la dipendenza si è dipendenti da quella sostanza. Dottor Cascavilla c'è preoccupazione anche per potremmo dire l'arrivo di tante nuove forme di fumo tra i giovanissimi. Ne abbiamo anche parlato in una puntata della scorsa stagione. Vogliamo fare il punto sulla situazione attuale anche alla luce delle nuove evidenze scientifiche? Sì è bene riprendere questo argomento perché è una emergenza nazionale che si sta diffondendo tra i giovani. Se ne è parlato all'ultimo convegno CITAB società italiana di tabaccologia nell'ottobre scorso dal titolo nuovi prodotti nuove sfide proprio perché sono stati introdotti questi nuovi dispositivi che diventano molto popolari tra i giovani, tra i giovanissimi. Si tratta di dispositivi di facile accesso molto attrattivi per i giovani, uso e getta addirittura quindi sprezzanti verso l'ambiente ma soprattutto vengono concepiti su misura giovanile, mirati per loro. Infatti sono pronti all'uso. È difficile resistere a questo piatto pronto che ti viene mostrato perché manifestano fragranze aromatiche, sono dai colori vivaci. È un po' come la fiaba di nota di biancaneve dove la mela appariscente, lucida, prelibata al gusto, veniva offerta ma dentro c'era il veleno. È la stessa cosa. Hanno un nome specifico questi nuovi dispositivi? Sono note come puff bar, piccole sigarette che attraggono molto, dicevamo, i giovani che ammaliati dai colori vivaci, dai gusti di ogni tipo finiscono per imbarcarsi verso il paese delle dipendenze. E qui ci ricorda un'altra fiaba più nota. Ma le fiabe di una volta erano a lieto fine. Qui noi non sappiamo cosa può succedere, se ne è parlato all'ultimo convegno SITAB, cosa può succedere in questi giovanissimi, addirittura bambini dopo le scuole elementari, che inondano il loro cervello di nicotino, un cervello immaturo, ancora un cantiere in via di consolidazione, in via di sviluppo. E questo preoccupa molto la sanità. Perché questi dispositivi contengono nicotina. Molta nicotina. Mitigata però la contengono. Contengono molta nicotina. E' una nicotina sintetica che dà una dipendenza molto più forte di quelle tradizionali, dei dispositivi da fumo tradizionale. Quindi mentre comunque conosciamo i danni della sigaretta classica, ancora non si conoscono, immagino bene, i danni di questi... Sì, la nicotina è la parte che danneggia, arriva al cervello e invece di arricchire il cervello lo depaupera, lo impoverisce. Dico questo perché questi dispositivi stanno entrando dalla porta della scuola, come se fossero accessori scolastici, negli astucci. Ma mentre, dicevamo, questi accessori nobili per la scuola servono per apprendere, per arricchire il cervello, invece qui operano forti danni, anche perché contengono anche metalli pesanti e anche sostanze potenzialmente cancerogene. Allora qui viene il ruolo principale della scuola, che può nutrire in modo diverso il cervello, tramite la cultura letteraria, scientifica, la cultura artistica, motoria. Esatto. E quindi offrire ai giovani una preparazione alla vita. E' molto importante questo, è una grande responsabilità per la scuola di oggi. E noi come Assimefac stiamo proponendo, siamo già entrati con l'inizio dell'anno scolastico in alcune scuole, ma vogliamo offrire anche una presenza più capillare, proprio perché si prenda consapevolezza dei nuovi danni che possono arricchire ai giovanissimi questi nuovi prodotti. Vorrei ricordare anche il suo impegno, dottor Cascavilla, nelle scuole, proprio per sensibilizzare i giovani a smettere di fumare se già lo fanno e a non iniziare proprio, perché la migliore sigaretta che si è fumata è quella che non si è mai accesa, diceva una volta un medico. E come medico di medicina generale immagino che lei veda quotidianamente fumatori, sono facilmente insomma intercettabili. Che cosa potete fare voi? Quali consigli, quali suggerimenti proprio pratici per smettere di fumare? Anche se sappiamo essere difficile, però che cosa si può fare, dottor Cascavilla? Innanzitutto bisogna dire che in assenza di centri antifumo nelle vicinanze dove si risiede, il medico di medicina generale occupa un posto di rilievo, proprio perché intercetta gran parte dei fumatori. Allora, qui che cosa possiamo fare? Saremo molto pratici in questo ultimo angolo di discussione. Innanzitutto stabilire un rapporto empatico col paziente e poi il medico deve sapere che il paziente oscilla sempre tra due versanti, legato a una sponda che lo tiene legato al fumo ancora, ma da cui vorrebbe distaccarsene per raggiungere l'altra sponda, quella del benessere. E' qui che si inserisce il medico di medicina generale. Come? Individuando quelle leve motivazionali che sono dei potenti incentivi, potenti forze interiori che possono fare la differenza. Allora è il tallone d'Achille, è il punto debo, quel nervo scoperto, sensibile, a cui il paziente è sensibile e noi dobbiamo tralasciare tutto il resto. Facciamo degli esempi pratici. Esatto. Se un paziente viene in studio perché è preoccupato dei soldi che spende per il fumo, gli diremo che il suo patrimonio viene ad essere intaccato dal fumo e che se smette di fumare può mettere da parte un gruzzoletto da utilizzare come meglio crede. Se viene un paziente allarmato perché gli manca il fiato, fumatore, noi diremo guarda che il livello di ossigeno nel tuo organismo sta scendendo e scenderà ancora di più. Se smetti di fumare fai il pieno, il rifornimento di ossigeno e la macchina dell'organismo diventa più efficace, più scattante. Se viene una signora a cui il dermatologo ha detto guarda che il fumo ti sta rovinando la pelle, le diremo se smetti di fumare è come andare dall'estetista. La tua pelle ricomincia a respirare, si rende più elastica, diventa più luminosa. Se infine viene un paziente che ci dice voglio smettere di fumare per motivi di salute, si apre una porta, gli diremo guarda immagina che sai che il fumo è causa di tanti fattori di rischio per tante malattie. Immagina che ogni fattore di rischio sia rappresentato da un birillo, proprio come in una sala da gioco, bullying, dove il giocatore lancia la biglia e tutti i birilli volano per aria. Con un solo colpo, smettendo di fumare, si possono abbattere tutti i fattori di rischio abbinati al fumo. Mi sembra un'occasione favolosa. E per concludere manca ancora una cosa. Abbiamo parlato delle due sponde, quasi di un fiume. C'è una corrente da attraversare ed è la sindrome d'astinenza. Per vincere questa occorre sia un supporto psicologico, ma anche l'uso di farmaci. Non vedo perché il privilegio dei farmaci debba essere riservato all'ipertensione, al diabete, a tante altre malattie e non al tabagismo, che lo è anche una malattia temibile. Allora il medico di medicina generale dovrebbe imparare a utilizzare questi farmaci. Perché unendo tutta questa strategia complessa, organica, si possono ottenere risultati molto vantaggiosi e direi sorprendenti. Dottor Cascavilla, grazie sempre per la sua praticità anche nel raccontare, nella narrazione di argomenti così impegnativi, difficili, però lo fa sempre con grande chiarezza. È molto empatico lei, prima si parlava del rapporto empatico tra medico e paziente, lei lo è e sicuramente lo ha dimostrato in tanti anni di medicina generale. Grazie per essere stato con noi. Questa puntata, lo ricordo, sarà possibile rivederla sul nostro canale YouTube Padre Pio TV, nella playlist Dica 33 il medico risponde. Vi do appuntamento con il dottor Paolo Cascavilla la prossima settimana, intanto linea alla regia per proseguire con la nostra programmazione. Grazie per aver guardato il nostro canale YouTube,